Buongiorno a tutti voi, sono le 7 del mattino, è domenica 2 aprile, è la domenica delle palme. Allora partiamo proprio da notizia del Papa che ieri è stato dimesso, lo sapete, dal Policlinico Gemelli di Roma, è rientrato in Vaticano e oggi sarà presente proprio alla celebrazione della domenica delle palme. Ma ha fatto sapere che intende essere presente anche a tutti i riti delle celebrazioni pasquali. E quindi andremo a vedere quali sono le condizioni di salute del Pontefice, ma poi andiamo a vedere anche sui giornali, c'è grande risalto anche al PNRR, perché ci sono le dichiarazioni di esponenti del Governo, ma anche di quanto dicono dall'Europa. Lo sapete, in ballo c'è la famosa terza tranche da 19 miliardi. Poi continuano a tenere banco le polemiche legate alle dichiarazioni del Presidente del Senato, la Russa, a proposito di Via Rasella, dichiarazioni per le quali si è scusato, ma sembrano non essere state sufficienti. Ci sono però anche altre notizie, le andiamo a leggere insieme. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, il titolo Fondi dell'Unione Europea, ecco i nuovi piani, il Governo ha lavoro su crediti di imposta e infrastrutture per l'energia. Gentiloni è il Commissario Europeo all'Economia, dice c'è margine per rinegoziare il PNRR. E poi sotto l'altro titolo sulle parole del Presidente del Senato la Russa, che si scusa su Via Rasella, dice erano nazisti. Pressing di Meloni, ma il caso resta. Ancora la notizia del Papa, eccolo qui, l'abbraccio del Papa, la madre in lacrime, è uscito e si è fermato a parlare con i cronisti che lo attendevano, gli si è avvicinata appunto questa mamma che nella notte ha perso la propria figlia, allora ha voluto abbracciare il Papa, appunto l'abbraccio del Papa, la madre in lacrime che ha perso la figlia. C'è anche quest'altra notizia, riguarda Roma, riguarda un monumento mondiale, la barcaccia a Piazza di Spagna, allora ieri c'è stata questa protesta così eclatante, abbastanza clamorosa, degli attivisti sono entrati all'interno della fontana, li vedete, con della vernice nera al carbone, che poi comunque non ha lasciato segni, ma insomma c'è stata comunque questa invasione, ancora una volta a farne le spese è stato un nostro monumento. Andiamo a vedere la Repubblica, la sfida dei sindaci, andiamo a leggere meglio che cosa vuol dire, sfida dei comuni per i progetti sotto la lente dell'Unione Europea, quindi parliamo nuovamente di PNRR, ulteriori risorse, un dialogo diretto con Bruxelles, ma il governo è in grave ritardo anche nella presentazione delle annunciate modifiche del recovery. E poi anche in questo caso il giornale diretto da Maurizio Molinari torna sulla questione la russa, e via Rasella, la russa si scusa, è violante, dice, fratelli d'Italia rompa con il passato. Maurizio Molinari, guardate nel titolo del suo editoriale, ci parla di Cina globale, confini dell'Europa, c'è un filo che lega il successo della meditazione cinese fra Arabia, Sud e Tehran, con i 12 punti di Pechino per risolvere la guerra in Ucraina. Alla volontà di Xi Jinping, vi ricordo il presidente cinese, di trovare risposte cinese ai problemi globali, per generare un po' ovunque nuovi equilibri di sicurezza capaci di ridimensionare il ruolo di superpotenza degli Stati Uniti. E allora, il Sole 24 Ore, lo vedete in questa foto, qui appunto ritrae il leader iraniano e quello saudita, qui la pace fredda tra sciiti e sunniti, l'accordo storico tra Iran e Arabia Saudita, grazie proprio alla mediazione della quale faceva riferimento il direttore di Repubblica Molinari, la mediazione cinese. Allora, restiamo però sulla prima pagina del Sole 24 Ore per vedere anche altri titoli, tutti i numeri del ponte sullo stretto e blocchi di partenza a un'opera da 10 miliardi, pensata già oltre 50 anni fa. Lì vivono i vecchi contratti, il piano entro il 31 luglio del 2024, Salvini, il ministro, 100 mila posti di lavoro. E poi sotto però si parla anche di PIL, per il 2023 crescita del PIL allo 0,8-0,9%, ma c'è l'incognita, lo vedete, sull'effetto del PNRR. Andiamo sulla prima pagina della stampa, il titolo in questo caso scelto da Giannini, dal direttore, che firma anche un suo editoriale, lo vedete, Bobbio, Ignazio, l'equazione tra fascismo e antifascismo. La scelta della stampa è sulle parole di La Russa. Finte scuse, Schlein e Conte dicono vada via. Via Rasella, il Presidente del Senato prova a correggere il tiro. La telefonata di Meloni, ci sarebbe stata appunto questa telefonata tra il Presidente del Consiglio e il Presidente del Senato, telefonata nel corso della quale la Meloni avrebbe esortato il Presidente del Senato a stare più attento. Scendiamo sotto, andiamo a vedere il titolo sul PNRR, vedete, finito solo l'1% dei progetti. Giorgetti, il Ministro, burocrazia non all'altezza. La Commissione dell'Unione Europea dice l'Italia rischia di mancare il grande traguardo. E poi questa fotonotizia, la siccità assicurata sopra le polizze sulla carenza d'acqua, non è un evento imprevisto. Voglio restare però ancora per un momento sulla prima pagina della stampa, perché possiamo parlare anche di Ucraina. Da ieri la Russia ha preso la presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, questo come da prassi appunto, non c'era stato nulla che avesse modificato questa alternanza, questo susseguirsi. Però Chiefer naturalmente non ha visto bene questa cosa, anzi lo definisce il Presidente Zelensky uno schiaffo al mondo. Sono le 7 e 6 minuti, ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, la linea alla regia e ci vediamo subito dopo. Se volete siamo qui, a tra poco. 11 minuti dopo le 7, ben ritrovati. Ho preso la prima pagina del messaggero, andiamo a leggerla insieme. L'apertura, il titolo è sul PNRR, lo vedete, l'Unione Europea apre alle modifiche, gentiloni, da Bruxelles, flessibilità e collaborazione. Giorgetti, il Ministro, dice decreto per adeguare la pubblica amministrazione, nuovo piano per le imprese, 7 miliardi per i progetti sull'autoproduzione di energia green. In alto, vedete, questa donna, ne abbiamo parlato poco fa, che ha perso la figlia proprio in ospedale al Gemelli, che ha abbracciato il Papa, sono vivo e con solo la madre che ha perso la figlia. Scendiamo sotto perché ci ricorda che il messaggero che oggi e domani si vota in Friuli Venezia Giulia. Vedete, destra e sinistra ora si contano. E poi ci sono anche altre notizie, la barcaccia, ecco uno dei protagonisti proprio di questa intrusione nel monumento. Se la protesta sconfina nell'illegalità, la barcaccia violata, vi ricordo è la seconda volta, in pochi anni, l'altra volta furono i tifosi olandesi, se non sbaglio, del Feyenoord a violare appunto questo monumento. Sulla prima pagina del messaggero abbiamo anche quest'altra notizia, però a proposito dei farmaci antitumore falsi. Ecco il business che uccide, blitz della finanza Civitavecchia a Fiumicino sugli arrivi dal Nord Africa. Nel Mirino ci sono pure i cosmetici. E poi c'è questa storia singolare, guardate, la lettera della scippatrice, una signora che era stata derubata, le chiedo perdono e la vittima così torna a uscire di casa. Andiamo a vedere il fatto quotidiano. Il titolo sulla fotonotizia, con questo fotomontaggio, lo vedete, che ritrae insieme, seduti su un missile, Putin, Biden e Zelensky, adesso c'è il ministro della difesa, Crosetto, Kiev vuole le bombe americane a grappolo, l'Italia che fa? Zelensky chiede le armi bandite nel 2010 e impiegate dai russi. Crosetto, il ministro della difesa, non parla. Roma ha distrutto i suoi ordigni, ma tace su quelli stoccati qui nelle basi degli Stati Uniti. Quindi questa sarà una storia poi da approfondire, da verificare se qualcuno è interessato. Intanto andiamo sul giornale. La strage di Vierasella, le parole quindi del Presidente del Senato, la russa si scusa, ma a sinistra non basta. Nonostante la precisazione del Presidente del Senato, i partigiani dell'Ampi chiedono le dimissioni e parte pure una raccolta firme. E poi questa notizia, questo titolo che mette appunto il giornale diretto da Minzolini, De Benedetti Shock, avrebbe definito Giorgia Meloni demente. E' il titolo. Sulla burocrazia ogni anno brucia 225 miliardi. Andiamo a vedere Libero. Torna nuovamente sulle parole attribuite a De Benedetti, De Betischlein. I dementi sono loro. Ellie incontra l'ingegnere, lui spara sulla Meloni. Dimostra demenza. Ai compagni Schick restano gli insulti. E poi le parole di la russa sotto la verità la sanno anche a sinistra. Via Rasella fu un attentato stupido. Cosa hanno detto Pannella, Bobbio, Bocca e Mughini? Ancora, vediamo il manifesto Transitalia. Questo è il titolo d'apertura sulla fotonotizia e con il sommario scelto dal manifesto. Leggiamo che cosa scrive. A Roma il Protect Trans Youth, primo corteo per i diritti delle giovani persone trans. Migliaia sfilano fin sotto l'altare della patria, chiedono rispetto e riconoscimento a partire dalle scuole. Ora una direttiva ministeriale sulla carriera alias. E il titolo sulla russa, eccolo qui. Quelle di la russa non sono scuse. Forse i nazisti colpiti a Via Rasella non erano musicisti, non lo so. Andiamo a vedere la verità. Lo studio, il long covid non esiste. Smontato lo spauracchio per costringere i giovani a farsi le dosi. Ancora una volta la verità torna sulla questione covid. Una ricerca norvegese pubblicata sulla prestigiosa rivista medica Giamma. Stessi sintomi tra chi si è infettato e chi invece non ha mai avuto il virus. L'ipotesi più probabile, secondo gli scienziati, è che la sindrome sia indotta da fattori psicologici legati alle restrizioni. E poi la foto con i genitori. In questo caso c'è anche il marito di questa donna. Appunto hanno perso entrambi da poche ore la loro figlia che abbracciano il Papa. Il Papa piega i medici, sarà ai riti di Pasqua. Allora a proposito di Papa, andiamo sulla prima pagina del tempo. Perché in basso c'è questa notizia di Luigi Bisignani che di solito è sempre molto informato. E allora il Papa trasloca a casa di Razzini. Lo sapete che ha scelto fin dall'inizio il suo pontificato di abitare a Santa Marta. E allora scrive così Bisignani, Francesco va via da Santa Marta, andrà al monastero Mater Ecclesie, che è quello dove era Ratzinger. Allora caro direttore, bye bye Santa Marta, Bergoglio si trasferirà presso al monastero Mater Ecclesie. La residenza che fu anche di Benedetto XVI, da cui ha fatto velocemente sloggiare padre Gheorghe. Lo sapete, era l'assistente proprio di Ratzinger. Allora continuiamo a parlare di Papa, di Vaticano, andiamo sulla prima pagina dell'Avvenire. La foto ormai la conosciamo. Francesco torna a casa e oggi sarà in piazza per le palme. E ancora abbiamo da vedere due prime pagine. Italia di Giorgio, successi all'estero, i conti interni, due volti del Premier verso le europee. Questo è il titolo importante del giornale L'Identità. In alto però c'è il titolo sulla Russia, che da ieri presiede il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La protesta di Kiev, dice un'altra sconfitta. Chiudiamo con la prima pagina della Gazzetta Sportiva. Disfatta l'Inter K.O. a San Siro con la Fiorentina. Ieri hanno perso i nero azzurri. E allora Inzaghi in bilico, decima sconfitta in campionato e crisi. Ultimato Under Club, si gioca la panchina contro Juve, Salernitana e Benfica. E poi vi segnalo anche c'è un'intervista a Berlusconi. Lo vedete qui in basso. Allora, andiamo a vedere le pagine interne dei giornali. Partiamo naturalmente da quella che più o meno domina le prime pagine dei giornali. Il titolo del PNRR, ritardi e rimedi. Gentiloni, l'Unione Europea flessibile. Il commissario all'economia, che dice ci sono margini per rinegoziare. Pronti a esaminare le proposte con la massima collaborazione. Il ministro Giorgetti, che dice nel 2023 la crescita italiana superiore alle estime. E qui, sintetizzato, efficacemente abbiamo proprio le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti. Gentiloni, che dice non sono preoccupato affatto per l'erogazione richiesta a fine dicembre. Tutti i punti sono chiariti. Vi ricordo ancora una volta, è in ballo, è stata sospesa la terza tranche da 19 miliardi da versare al nostro Paese. Sotto abbiamo Giorgetti, si valuta un nuovo provvedimento che migliori l'organizzazione degli uffici pubblici per il PNRR. E poi sotto Urso abbiamo chiesto più flessibilità per il Repower, l'Unione Europea per la dublice transizione ecologica e digitale. E poi la segretaria del PD Schlein, il PNRR, merita un pieno confronto con Parlamento e parti sociali, come suggerisce anche l'Unione Europea. Resto su questa pagina perché sotto Francesca Abbasso però ci dice che in realtà i problemi, per così dire, non sono soltanto italiani. Perché Francia e Germania sono più indietro dell'Italia, solo la Spagna ha già incassato la terza tranche. E allora andiamo a leggere nel dettaglio. Ci sono alcuni governi che non hanno ancora inviato la domanda, nemmeno per la prima, stiamo parlando di tranche, noi siamo alla terza. La Germania ad esempio ha finora incassato solo i 2 miliardi e mezzo dell'anticipo e come Berlino sono fermi all'anticipo. Anche Austria, anche se è richiesto la prima tranche. Belgio, andiamo qui nella seconda pagina dove prosegue l'elenco dei paesi. Eccoli qua. Lussemburgo, Danimarca, Lituania, Estonia, Finlandia, Slovenia, la Francia. Invece è la prima tranche di sovvenzione, pari a 7,4 miliardi ricevute il 4 marzo di un anno fa. Sono al primo pagamento anche Lettonia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta e Repubblica Ceca. Mentre hanno incassato il secondo assegno come l'Italia, anche il Portogallo, la Grecia, la Slovacchia, la Croazia. Polonia e Ungheria hanno avuto il via libera al PNRR solo nel giugno e nel dicembre scorso a causa di problemi legati al mancato rispetto dello Stato di diritto. Come dire, siamo tutto sommato in buona compagnia. Parla di PNRR, a pagina 2 anche la Repubblica. Vedete il titolo, la spinta dei sindaci, vogliamo spendere il doppio dei nostri fondi. De Caro dell'Anci, proprio l'Associazione dei Comuni, dice con fitto il Ministro. Risponderemo all'Unione Europea sugli stadi di Firenze e Venezia. In arrivo, semplificazioni per permettere ai comuni di aumentare spesa e assunzione. Qui abbiamo appunto i primi cittadini di alcune città come Bari, Firenze, Roma, Napoli, Genova, Palermo, Torino e Milano. E ognuno di loro naturalmente vuole dire la sua approvazione del PNRR. Anche a pagina 3 si parla di PNRR con un retroscena. L'Italia a ritardo anche sulle modifiche. L'inerzia di Meloni, secondo quanto scrive Claudio Tito, il corrispondente da Bruxelles, dice preoccupa Bruxelles. Giorgetti, la struttura burocratica non era e non è all'altezza. Così scrive la Repubblica. Anche la stampa se ne occupa a pagina 6. Assist di Gentiloni a Meloni, pronti a rinegoziare il PNRR. Giorgetti svolta per la pubblica amministrazione. E sotto c'è però un'intervista a Maria Stella Gelmini, che è la portavoce di azione. Dice basta giocare allo scaricabarile. Il governo rispetti i tempi del piano. Lo scaricabarile sostanzialmente è quello che avrebbe detto, secondo alcuni commenti, la Meloni quando ha detto noi questo PNRR con quei parametri lo abbiamo ereditato. Non era nostro, non l'abbiamo discusso noi, ma era di Draghi. E allora sotto vedete anche nel sommario Draghi ha avuto un mese di tempo per scrivere la nuova versione del PNRR. Meloni 5 volte tanto. Insomma, no allo scaricabarile, come dire, ognuno si assuma le proprie responsabilità. 7.21 minuti e 30 secondi, la linea a Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Questa è la situazione di oggi che vede una discreta quantità di precipitazioni. Sono un po' tutte della stessa tipologia, cioè sono fenomeni localmente intensi, ma isolati, quindi non c'è una vasta zona di maltempo. Sono piccole situazioni che però localmente possono essere intense. Questo vale in parte per la Lombardia, il Veneto, poi vedete l'Emilia Romagna, poi vedete tutte le regioni centrali e quelle meridionali. E questa volta qualche precipitazione significativa arriva anche sulle isole maggiori, segnatamente la Sicilia. Quindi è un tempo particolarmente instabile, spesso probabilmente variabile, dove il variabile non è il rifugio, non sai che tempo va, è variabile. Perché cambia più volte nel corso della giornata, l'abbiamo detto anche ieri, tipicamente di marzo, anche se siamo in aprile. Allora, poi vediamo la giornata di lunedì, in cui si attenua questa instabilità, questa variabilità del tempo. Rimane qualche fenomeno, ma un po' più largo, quindi non cambia velocemente nel corso della giornata. Soprattutto Emilia e Veneto, dove ci potrebbero essere fenomeni un po' più intensi. Delle altre zone, schiarite qualche nuvola, qualche breve pioggia. Anche al centro, sul versante tirrenico, il miglioramento c'è, perché i venti cominciano a provenire dai quadranti orientali, quindi interessano i fenomeni maggiormente il versante orientale. E poi Sicilia e Sardegna, Sicilia settentrionale, Sardegna meridionale, con qualche fenomeno, anche qui localmente intenso. Quindi questa instabilità si fa sentire sicuramente. Martedì, in linea di massima, al centro-sud ci possono essere ancora delle piogge, ma vedete il verde, cose piuttosto deboli. Qualcosa appena in più fra Basilicata, Puglia e in parte la Sardegna. Al nord soltanto nuvole, essenzialmente. Quindi una cosa molto più tranquilla, in qualche modo, da questo punto di vista. Vediamo le minime di questa mattina, ancora in qualche caso al sud, ma direi quasi solo sulle isole, i valori riescono ad andare sopra i 10 gradi. Negli altri casi siamo scesi un poco su valori che poi non sono bassissimi, ma cominciano a essere, l'abbiamo visto ieri, al di sotto delle medie giuste, previste per questi giorni dell'anno. Chiudiamo con lo stato dei mari, tranquillo, poco mosso, quasi calmo l'Adriatico, mosso lo Ionio. Poi cominciamo a trovare i mari molto mossi, tutto il Tirreno, i canali fra l'isole maggiori e a ovest. Il Maestrale, molto forte, rende il mare agitato o anche molto agitato, che fa 6 su una scala di 9. e non è poco, ma il Maestrale, ovviamente, da quelle parti, quando soffia, non scherza. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale, da più tardi.